Ciao dal Cardo Mariano Luce, come potete vedere da questa immagine parlerò del timo, proprietà del timo, antimicrobiche, espettoranti emocolitiche, antispastiche digestive, impieghi, malattie da raffreddamento, tosse, cattiva digestione. Questa pianta ha un fascino perché viene detta la pianta protetta da venere, quindi il timo è protetto da venere dal suo simbolo e significato. Lo potete trovare in tisane e oli essenziali. Se volete sapere di più riguardo questa pianta commentatemi il video. Naturalmente i miei consigli non intendono sostituire il parere del vostro formatico curante e porto qui semplicemente le mie competenze. Vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao Cardo Mariano Luce!